Fulmine colpisce casa del popolo di Muraglia, morto un democristiano del passaggio, in mezzo e tu io. No, adesso facciamo una teoria, la pratica la facciamo dopo. E che me prima di tutto sono una giulina vera. Questa un chiamassi unità centrale e sarei senza offesa a farmi nessuno e quel manca ma voi altri, il cervello. Ma con che da dì che è morto? Tadaste ma che? BOM e ZET. Ah ma la madama allora non ha capito ancora chi sono me. Te per esempio con te chi faccio? Non sono me. Non sono me. Ve l'arrivate. Permettete di presentarmi Io sono Angelina Angiolini Questa ma che la si chiama Taschera Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Questa ma che si chiama Cervell perché ragiona Sì Ce sarà un motivo perché sta a fare i ma che si chiama Sorge La chiave è d'accesso Non la chiave del cielo Ma già mi sono fatto in quattro perché abbiamo tutti i treni Ah già, Gios, com'è che abbiamo vinto tutti i treni? No, a dire la verità abbiamo perso tutti i treni Finalmente siamo in tel programma Office Oh, è ben fatto No, a dire la verità abbiamo perso tutti i treni